Necessità di congruenza fra il consenso interno e la manifestazione esterna di volontà. Il consenso matrimoniale, essendo accordo delle volontà dei due contraenti per costituire il rapporto matrimoniale, deve ritenersi inesistente quando uno o da entrambi i nubenti manifestino esternamente una volontà che in realtà essi non hanno. Ciò avviene perché è estraneo al diritto matrimoniale canonico ogni principio di responsabilità per il quale il soggetto che sia responsabile della discordanza tra la sua interna volontà e la manifestazione deve considerarsi obbligato da tale sua manifestazione e subirne le conseguenze giuridiche. Questo principio di responsabilità che si fonda sulla necessità della tutela dei soggetti nei confronti dei quali è avvenuta la manifestazione di volontà e nell'affidamento che essi fanno in colui o colei che l'ha compiuta cede di fronte alla esigenza fondamentalissima della esistenza effettiva della volontà matrimoniale. E' questa la dimostrazione forse più netta e potente di quel principio proprio del matrimonio canonico ed introdotto dal cristianesimo per la prima volta nella storia del mondo per cui il matrimonio è essenzialmente l'accordo di due volontà. Se tale accordo, tale consensus manca il matrimonio non c'è. Quando tale discordanza tra volontà e manifestazione è voluta abbiamo la simulazione o da anche lo iocus che è una manifestazione fittizia avvertita come tale come scherzo o burla anche da coloro che assistono al matrimonio. E' di questa simulazione che qui intendiamo brevemente parlare. Né il codice del 1917 né quello nuovo del 1983 usano la parola simulazione nel diritto matrimoniale che invece dalla dottrina e dalla giurisprudenza viene costantemente usata con la distinzione fra simulazione totale e parziale. Tale distinzione può o deve essere ravvisata ove il canone parla di esclusione del matrimonium ipsum espressione che si ritrova identica e nel vecchio e nel nuovo codice e che appunto riguarda la fattispecie della simulazione totale mentre la simulazione parziale era riscontrata prima nella esclusione dell'omne ius ad coniugalem actum o di essenzialem aliquam matrimoni proprietatem ed ora invece nell'esclusione o di matrimoni essenziale aliquod elementum ovvero di essenzialem aliquam proprietatem la dottrina osserva che le due forme di simulazione sono assai diverse tra loro soprattutto perché in quella totale è assente la volontà di compiere il matrimonio mentre in quella parziale tale volontà c'è ma contraddittoria con se stessa e finisce per mancare come vera e propria volontà matrimoniale è vero che talora e nella dottrina e nella giurisprudenza una simile distinzione è respinta in quanto l'effetto giuridico di qualsiasi simulazione è lo stesso e si giunge ad affermare che chiunque simula simula totalmente cioè internamente esclude quel consenso che per sé solo fa il matrimonio ma comunemente la distinzione è accettata la simulazione in vero può riguardare non solo la totalità del negozio ma anche unicamente un suo elemento d'altro canto nessuno nega che almeno sotto l'aspetto psicologico la distinzione ha la sua importanza chi infatti simula totalmente è ben consapevole del suo atto generatore di nullità tanto che la giurisprudenza rotale richiede la coscienza della nullità del matrimonio in colui che così simula mentre chi compie una simulazione parziale può pensare di contrarre matrimonio in quanto la sua volontà è in qualche modo indirizzata adesso è in qualche modo Grazie.